bella pezzi di cuore bentornati sul canale nuovo giorno nuovo video ma oggi lo faccio così portandovi non il solito spacchettamento bensì il raccoglitore per farvi vedere in che stato è dopo che ho aperto due box di bustine standard da 2 euro un box premium e latin la collector team ok così vi faccio vedere anche come le ho messe magari alcuni di voi se lo stanno chiedendo eccetera eccetera vediamo un po vado subito ad aprire non voglio perdere tempo le ho già inserite avrei voluto farlo passo passo nel senso che facevo il video e le inserivo piano piano però vabbè è meglio dare un po come posso dire più spazio alle carte eccole qua intanto comincio dalle top master questa è la prima pagina ovviamente dove ci porta questa è una carta invincibile ovviamente tutte carte sbustate per il momento poi che abbiamo qui l'austria eccola qui la seconda pagina completa alla fine del video o non so quando mi scapperà vi dirò quante carte mi mancano per completare questa nuova raccolta ecco qui il belgio completata spero di fare in pochissimo tempo e non metterci veramente troppo purtroppo non ho la possibilità di tenere fermo questo telefonino in modo tale ecco modo tale da farvi vedere molto più da da me rapidamente le carte però guardate qua ogni tanto un piccolo zoom manuale mi avvicino io con il ma la mano ecco qui per esempio mi manca c'è un buchetto la maglia della danimarca poi ci abbiamo qua l'inghilterra stessa sorte purtroppo la maglia guardate qui che brutti spero di trovarla o che ne so magari anche scambiarla con alcuni di voi anche perché di carte doppie ne ho in abbondanza poi magari più avanti vedo anche la possibilità di spacchettare a voi io vabbè io lo faccio senza pormi lì pormi limiti sì se dice così spero di sì ecco un altro buchettino nella villandia o la francia fortunatamente squadrone completato con kylian bappé girù pogba e bla 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 poi c'è qua dietro la germania mi manca la solita maglia purtroppo perché essendo quelle speciali è un po complicato dai da trovarle andiamo un po la nazionale nostrana l'italiano ovviamente sto parlando completa chi ci abbiamo qua la macedonia stessa sorte ancora purtroppo che guarda quali buchi sulla sull'olanda va bene piano piano dai ce la farò fatemi sapere voi se avete cominciato o se avete voglia di farlo prossimamente e per chi ha cominciato magari dirmi anche a che punto è facendomi sapere nei commenti le bombe a mano che avete trovato anche perché qui devo parlare bombe a mano perché guardate un po ho trovato cristiano ronaldo purtroppo non in video ma dentro non l'ho portato dentro alla box premium ragazzi miei le bussine da 5 euro cristiano ronaldo teammate eccolo qua completato è l'ultima carta in mancana ruben dios pensavo che fosse il portiere invece no meglio così eccolo qua lo rifaccio vedere cristiano ronaldo teammate quanti di voi l'hanno sbustato fatemi sapere mi raccomando non mi fate portare i video senza avere un riscontro da parte vostra mi state scrivendo che fa veramente piacere vi state dando una soddisfazione non indifferente ecco qua un altro buchetto qui che abbiamo la scozia però veramente più siete meglio è perché vorrei portarvi come facevo una volta qualche mese fa che continuo a portare i video vorrei aprire un contest che significa contest mettere in palio delle carte ecco un altro buco delle carte in pa in premio le scelgo io ovviamente o sennò magari do la possibilità a voi e poi insomma base a quanti vorranno partecipare alla lotteria io la chiamo così più che contest o no mi ricordo manco più insomma detto questi questo forfuglio confusione di parole insomma in sostanza mi sarebbe aprire una lotteria e dare la possibilità a voi alcuni di voi di vincere delle carte gratuitamente va bene soprattutto speciali non pensate che metta le carte comuni quale di mette anche i sassi ce l'hanno e mettiamola così va bene andiamo avanti molto velocemente il galles forse era meglio fare così che facevo così ecco qua il mio tallone d'achille le fans favorite in tutte le raccolte di europei mondiali del panini purtroppo è sempre per me un complesso sì che si devo dire carte veramente comuni nelle bustine ma essendo tantissime un po comple complicate da da completare in poco tempo lo spero di farlo da solo questa volta mi ricordo con road 2 euro 2020 le ho acquistate singolarmente quelle mancanti e invece la raccolta euro 2020 non l'ho proprio fatta quella dell'anno scorso e e quest'anno mi sono rifatto ecco qua infatti il raccoglitore mamma mia wow veramente belle cosa ne pensate sotto nei commenti mi raccomando qui che c'è altri buchettini purtroppo a music fans favorite pensate un po vederle tutte complete la pagina quanto può essere bella spettacolosa spettacolare ovviamente ecco qua i portieroni facciamo una panoramica così dall'alto quante me ne mancano due poi c'è qua i difensori le muraglie proprio umane che ci abbiamo invece da sempre loro si le muraglie eccole qua bla 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 quante ne ho trovati di costui quasi non lo sopporto più poi chi player eccoli qua alcune carte non le avete viste in video perché ripeto le ho sbussate da solo e sono stato un tonno perché sarebbe stato bello farvi vedere vedere pure il ciro mobile gold machine come l'ho pullato bello proprio e vabbè non lo farò più questo tipo di azione porterò tutto un video stessa cosa ho fatto che i pokemon vabbè più avanti vi farò vedere con il nuovo set e stili di lotta quanta roba che ho trovato forse domani ve lo porterò è poi siamo quasi abbiamo quasi terminato è un po di pazienza ancora gli ultimi maestri e maestro e prodigio il vecchio e giovane come chiamo io sta carta questo tipo di carta poi abbiamo il trio munnets eccole qui non sono nonostante abbia la checklist la lista delle carte quali mi mancano ma chi se ne mi piace l'effetto sorpresa tanto su questa lista su questo foglio volantemente eccolo qui ho segnato tutto il numero di carte che mi mancano l'uno delle carte che mi mancano eccole queste sono quelle che veramente alla fin fine sono le più rare ma anche se si ritrovano uno massimo due per box le carte gioiello gwell per nato l'isla per esempio ne ho trovati tre mamma mia la nausea pochi abbiamo quale shining star altre belle carte novità di quest'anno con l'ervandic chrisman tutti tutti belli usciti ecco pure mi sarebbe stato mi fare mi sarebbe piaciuto farvi vedere la pullata di sterling con il suo 97 90 tette poi per finire le secret hero una per box a quanto ho capito eccole qua per cui una l'ho trovata dentro la team box e questa o questa insomma e viceversa dentro il box regata ventiquattro bustine ecco quale limite di rischio come le ho messe queste due dello starter pack poi insegne lukaku non mi ricorda queste dove l'ho trovata asi dentro la team box ok e per finire questa nella nella rivista bomber poi 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 approfitto vi faccio vedere i codici perché non sapevo nulla di questo ma grazie all'utente che mi ha scritto di farvi vedere di farvi vedere i codici eccoli qua pronti mi raccomando sbloccateli e per finire le carte limit edition che troviamo nelle bussine premium eccole qua perfettamente completate in tutto il loro splendore ecco un attimo solo di pazienza vi faccio vedere i codici voi comunque mettete pausa e scaricata lì e soprattutto per coloro che fanno partecipano online nel gioco vabbè ragazzi questo è quanto io spero che questo video vi sia piaciuto vi abbia un po trattenuto ho fatto passare 5 10 minuti di leggerezza dispensieratezza questo è quanto domani vi porterò un altro video di euro 2020 con altra spacchettata non vi preoccupate comunque meno male che ho guardato qui ecco la lista delle carte che mi mancano e il numero esatto dato che qualcuno di voi me l'ha chiesto 78 carte per completare la raccolta ok detto ciò vi ringrazio per aver guardato il video mi auguro veramente che vi sia piaciuto fate i bravi sempre a testa alta e al prossimo video bella